ERIFUSI ASMR Ciao a tutti amici Fiusini, come state? Spero tutto bene Oggi andremo a fare un video speciale Sono stata da H&M e ho preso questo debatt e modi Debatt e modi, andremo ad aprirlo insieme Eccolo qua Ok E sarebbe un calendario dell'avvento che ci sarà per Natale E' andato in sconto e allora l'ho preso adesso E ci sono dei numeretti Guardate qua Che bello E adesso andremo ad aprirlo Ok, insieme Bene ragazzi Andremo a vedere dentro cosa ci sta E andremo a fare gli ASMR Ok Allora li metto qua Andiamo con l'uno Wow Che ci sta dentro l'uno ragazzi Oh mio Dio Ragazzi ci sta una pallina Che serve per Da mettere dentro il bagno Che poi faremo anche l'ASMR di questa In separata sede Che fricce nell'acqua Guardate quanto è bella ragazzi Andiamo subito al numero Allo numero due Allo numero due Ecco qua Questo qua Cos'è? Aspetta che andiamo a leggere Allora C'è scritto E' piccolissimo ragazzi Non riesco proprio a leggere Però Deve essere tipo un doccio schiuma Non lo so Un doccio schiuma shampoo Ecco Il debatt E' un po' di Carino però Che è questo ragazzi E' molto molto bello Allora Andiamo subito Allora Mi metto qua subito Così Lo apro con qui Devo ad aprire il tre Ok Numero tre My god Cos'è questo? Wow Wow Questa qua E' una Una saponetta Ragazzi Ed è anche molto 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 profumata La mettiamo qua Andiamo ad aprire Il quattro 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 Dove sei? Quattro Qua Oh Fagliata Ragazzi Oh mio dio I sali da bagno Ragazzi Sali da bagno Quattro Allora Andiamo ad aprire il cinque 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 Dove è il cinque Ragazzi Quattro Queste piccole Allora Sì 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 Mi metto qua Che così faccio Mi metto qua Oddio un'altra un'altra boccettina bella vasca da bagno da far sciogliere eccolo qua poi abbiamo il numero 6 andiamo ad aprire il 6 wow ragazzi sono cuoricini cuoricini da mettere dentro la vasca da bagno sono stupendi sono dei cuoricini li proveremo tutti non vi preoccupate andiamo a fatti qui 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 10 10 9 10 10 12 14 15 15 15 15 15 15 16 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 17 17 18 17 18 19 19 18 19 19 19 19 19 andiamo ad aprire il nove un'altra un'altra pallina da fare sciogliere in acqua poi abbiamo il dieci 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 oh andiamo già su wow ragazzi questo qua body wash body wash questo qua no ma questo deve essere lo shampoo allora non lo so però anche questo è toggio schiuma ragazzi allora mettiamo qua le perline tutte insieme qua mettiamo i sali ecco dopo abbiamo l'unice andiamo aperto il dieci abbiamo l'unice ok questi qua oh ragazzi che bella no questa come smr è stupenda ah che bella la spugna a fiocco di neve ragazzi è stupenda è stupenda è stupenda allora andiamo con il dodici dodici sono aperto adesso l'undici il dodici dove ah eccolo qua oh my god cos'è questo anzi un'altra mamma che buon profumo questo è un'altra saponetta ragazzi allora facciamo un po' di spazio qua così li mettiamo tutte in fila poi abbiamo il tredici 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 oh mio dio sono delle stelline da bagno da mettere dentro dentro il bagno ragazzi mentre fate il bagno penso che si scioglano non lo so comunque le proveremo anche queste via al quattordici andiamo al quindici ragazzi un'altra limetta per lui eccola qua e la mettiamo sopra qua dopo abbiamo il quindici 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 no no quindici l'ho già fatto oddio abbiamo via abbiamo sedici ragazzi sedici sedici oh mio dio degli altri sali da bagno ragazzi sono stupendi sono bellissimi bellissimi allora abbiamo fatto 17 questa secondo me è un'altra pallina esatto la pallina la pallina una pallina bianca 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 una spoglia ragazzi da fare la semete beh dai mi abbiamo ricavato due trigger dai due trigger fantastici ma anche questi sono proprio belli torniamo 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 via 19 19 19 19 19 19 oh wow aspetta che non mi asco da pantalla vado a pantalla eccole anche questa un'altra un po' di un po' di body wash body wash allora mettiamo qua queste qua le mettiamo in fila qua guardate quanto sono belle ragazzi sono bellissime ok allora via 19 andiamo col 20 ragazzi io quindi oh my god sono valentino i cuoricidi rossi ma sono fantastici questi da mettere nella vasca d'appagno sì ma penso si sciogliano non lo so non so come sono fatti questi comunque dai li proveremo anche questi sono belli fantastici allora andiamo col 21 qua c'è una cosa grossa penso sia una saponetta non lo so eh sì ragazzi sì un'altra saponetta allora la mettiamo qui bellissima bellissima ragazzi bella 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 poi abbiamo il 22 penso sia un'altra bellina sì è un'altra bellina la 22 color verde 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 speranza verde speranza ragazzi eccoci qua guardate quanto sono belle sono fantastici queste le mettiamo in ordine anche di colore gradazione così e così guardate quanto sono carine queste qua queste super belline che dopo faremo anche l'esperimento ASMR c'è un altro video ok andiamo su 23 wow beh vabbè ragazzi no vabbè una fascia per capelli con le orecchiette ma è bellissima ma è bellissima ragazzi una fascia per capelli con le super orecchiette oddio è fantastica è fantastica la mettiamo qua allora andiamo ad aprire l'ultimo eccolo qua il 24 abbiamo l'altro cosa allora aspetta che lo guardo fuori da qua questo cos'è wow è super sclitteroso vabbè ci leggerò meglio cosa sono questi però è molto molto carino allora eccoci qua li mettiamo tutti insieme così bene ragazzi abbiamo visto cosa c'è da dentro questo super super box cioè veramente sono contentissima ragazzi bene allora ci vediamo spero che questo video vi sia piaciuto un po' lungo però e ci vediamo al mio prossimo video ciao e buona giornata